Ok regà mi è preso il panico Mentre stavo registrando il prossimo video Ho scoperto una cosa assurda E non ho resistito quindi faccio questo mini video Poi ne parleremo più approfonditamente Madonna al lavoro Queste che state vedendo sono le immagini del making of Di Fallout 76 Immagini segretissime L'avete notato che ho scoperto? L'avete notato ve lo faccio vedere io Guardate la data Lo sapete che vuol di questo? Che fino a buon ci avemmo capito un cazzo Quindi non lo so Ne parleremo più approfonditamente ragazzi Ma davvero devo andare al lavoro e devo chiudere il video Mi sembra che Fallout 76 In qualche modo non si sa come Ma sarà ambientato nell'anno di Fallout 4 Bella regà Grazie per i sei mila regà Se volete info sulla storia ecco il video qui Che qualcuno mi sponsorizzi Così mi posso licenziare e sto sempre a far video E vi aggiorno all'istante Ciao Grazie.